Il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale perde la maggioranza. Con una nota indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, Valeria Visconti, consigliere eletta con 113 voti nelle liste del Movimento, passa al gruppo misto. Adesso la geografia del Consiglio Comunale cambia notevolmente, soprattutto il peso politico della scelta. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una maggioranza che ancora teneva. 12 consiglieri di maggioranza a questo punto relative e 12 quelli di opposizione. Sarà adesso più difficile la tenuta dei provvedimenti. Infatti a parità di votazione non passeranno e verranno considerati non approvati. Dunque ci si dovrà sempre orientare verso un consigliere che farà l'ago della bilancia. Due le condizioni. La prima, a questo punto il Presidente dovrà votare sempre, quando invece prima spesso si asteneva da alcune votazioni per mantenere la sua posizione di terza età. E dall'altro i consiglieri comunali dovranno essere sempre presenti ad ogni Consiglio. La frattura e le divergenze politiche, dicono i beni informati che già esistevano da tempo, è una mancata condivisione dei valori del Movimento, secondo la visconti differenti da quelli che la portarono ad abbracciare la causa grillina, la ragione dello strappo, così scrive in una nota. Vuol dire che dovremmo lavorare ancora meglio per trovare la condivisione con l'opposizione sui temi fondamentali per la nostra città. Questa è la considerazione del capogruppo in Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle, Michele Doro. E nessuno strappo con la consigliera Visconti ha aggiunto, alla quale auguro buon lavoro. La scelta arriva qualche settimana dal voto in Consiglio della deliberazione sulla nota riguardante il debitoato. Adesso sarà tutto ancora più difficile per l'amministrazione Gambino.